Il pullover al cavo è un esercizio veramente veramente eccezionale Il problema è che la maggior parte delle persone e delle persone che lo dovrebbero spiegare nel modo corretto Non ci hanno capito una mazza di esecuzioni sbagliate È veramente pieno video su youtube, su instagram, su tiktok e ovunque E quindi ho detto sai che ci devo andare a fare un bel video sopra Dove vado a spiegare esattamente tutto ciò che ci sia da sapere Per poi chiaramente ottenere più risultati nel minor tempo possibile Ora quando parliamo di schiena lo so se magari segui già il canale da diverso tempo Ormai lo sai a memoria ma è bene ricordarlo Ci sono due regioni della schiena di nostro interesse Abbiamo uno il dorsale che è questo muscolo qua e che ha due sottodivisioni Che noi possiamo andare ad enfatizzare più uno o più l'altra Andando ad eseguire determinati esercizi In particolar modo abbiamo le fibre alte del dorsale e le fibre basse del dorsale Fibre basse del dorsale che ci aiutano a dare una maggiore ampiezza Visti posteriormente Fibre alte del dorsale che ci aiutano anch'esse posteriormente E in più ci danno anche un'idea di larghezza Visti frontalmente oltre che di spessore quando visti il profilo Dopodiché abbiamo invece l'upper back Ovvero i muscoli alti della schiena Il cui principale sono i trapezzi Che ha un muscolo discretamente grande Che ha tre divisioni differenti delle fibre Anche se poi chiaramente come per il dorsale è un unico muscolo E insieme ai muscoli dell'upper back Di cui il principale come dicevamo è il trapezzo Abbiamo anche il deltoide posteriore Che a differenza dei muscoli dell'upper back Non è legato al movimento delle scapole Ma abbiamo comunque l'effetto di spessore Che il deltoide posteriore ci va a dare E quindi comunemente le andiamo ad abbinare ai muscoli dell'upper back Ora se è la prima volta che vedi un mio video Mi presento Ciao a piacere il mio nome è D'Ordo Baldini Questo è il mio canale 8 anni su youtube E ogni giorno vado a distruggere le credenze Sull'allenamento date da preparatori Che si inventano le loro metodologie basate sul nulla Influencer Gente che fa video a caso No qui ci basiamo solo ed esclusivamente Su ciò che gli studi scientifici ci vadano a dire E per affrontare questa tematica qua È importante dire una cosa Che perché poi sarà una delle tematiche Che dovremmo andare ad affrontare Se vai ad eseguire il pullover al cavo O qualsiasi altro esercizio per la schiena Non hai bisogno delle altre ripetizioni E in realtà noi le altre ripetizioni Le vorremmo anche andare ad evitare Perché? Perché attenzione Se una persona sotto utilizzo di steroidi So che ci sono tante persone sul canale O magari tante persone che seguono persone Attraverso magari i loro video Attraverso i loro post Sui vari social network Persone sotto steroidi Dicono Eh ma lui lo fa Ed è diventato molto grosso Completamente differente Se non fai utilizzo anche tu E il motivo qual è? È che tu L'ipertrofia derivante dagli steroidi Dal testosterone È una cosa separata dall'allenamento Cosa significa questo? Contiene risultati anche se t'alleni Alla cazzum Poi chiaramente Se t'allenassi bene Otteresse ancora di più Ma siccome vedono già risultati Molto spesso si accontentano E continuano con le loro metodologie Ecco no Noi non abbiamo bisogno Delle altre ripetizioni Perché? Perché le altre ripetizioni Non ci danno più ipertrofia Ma ci fanno accumulare più fatica Ci fanno accumulare più danno muscolare E questo richiede più recupero All'interno della sessione di allenamento E più recupero Una sessione di allenamento e l'altra E non ci dà più ipertrofia Perché è la stessa identica ipertrofia Che otterremmo con un numero di ripetizioni Che vada dalle 4 alle 8 Quindi in poche parole Se sei un atleta natural Che vuole ottimizzare i risultati Quindi dice Vado io invece di ottenerli in 3 anni Magari se li ottengo in 6 mesi I risultati mi piacerebbe di più Ecco che 4-8 ripetizioni Se vai fino alle 10 ci può anche arrivare Ma non c'è nessun motivo Per andare a superare le 10 E fra l'altro Se non ti sei ancora iscritto Iscriviti perché queste informazioni qua Non le trovi altrove E oltre a ciò Ci ricordiamo che Se vogliamo massimizzare i risultati Più un esercizio è stabile Meglio è Ciò significa che Più ci sono altri fattori Ok? Che potrebbero subentrare A farci peggiorare Stabilità Equilibrio Coordinazione Meno ci sono questi aspetti qua Meglio è da un punto di vista ipertrofico Perché potremo reclutare Più unità motorie Attivare più fibre muscolari E quindi potenzialmente Teoricamente Se vai a fare le cose correttamente Andare ad avere Un miglior stimolo muscolare Ora prima di andarti a spiegare tutto Se ti continui ad allenare Con i foglietti sfigati Ok? Con le schedine di questo tipo qua Che tanto ti danno in palestra O che magari molto spesso Paghi Quei 50 60 70 euro Al personal trainer sfigato Che ha fatto il corsetto Del weekend E che queste cose Che ti sto per dire E che probabilmente Ti ho già detto Col cavolo che le sa Perché chiaramente Nessuno può aggiornarsi Come faccio io Che sto H24 A leggermi gli studi scientifici Non lo fa nessuno E quindi nessuno È così aggiornato Ecco Ho un pacchetto Chiamato a scienza dura Che conta 40 programmi Di allenamento Ogni programma Di allenamento Non è una schedina Sfigata Come si vede qua Oggi c'è abbastanza luce Ma si vede Sono 100 e passa pagine Con tutto Attenzione Non è un programma teorico È un programma pratico Con tutte le progressioni Da andare a fare Di settimana in settimana Numero di serie Numero di petizioni Tempo di recupero Ci sono programmi per la palestra Per la casa In modo frequenza Multifrequenza Ci sono programmi Per tutte le necessità E adesso Quando uscirà questo video Dovrebbe essere in corso Anche l'offerta Del Black Friday Dove praticamente Ti puoi prendere Un singolo programma Di allenamento A 10 euro Quindi una roba assurda Con questo coupon Novembre 24 Ti dura 3 mesi Avrai il mio supporto A vita Che ti rimane Anche una volta Finito il programma Anche se poi Il programma rimane tuo Ti piace Ottieni risultati E poi sai qual è il bello Che ti puoi prendere Tutti gli altri 40 programmi Di allenamento Pagando solo la differenza Quindi il prezzo intero Meno tutti i programmi Quindi meglio di così Non si può Adesso per esempio È uscito full body dura Volume 5.0 Su 3 allenamenti a settimana O multifrequenza dura Avanzato Su 4 allenamenti a settimana Programmi perfetti Sia per la palestra Che per la casa E chiaramente Con il Black Friday Invece ti puoi sempre Prendere l'intero pacchetto Già adesso E lo paghi pure meno Io ti lascio giù Tutto in descrizione E nei commenti Assolutamente ne vale la pena Ora noi Cosa abbiamo visto Che quando andiamo Ad eseguire Un esercizio Sul piano sagittale Che in poche parole Quando abbiamo i gomiti chiusi Noi finiamo Per mettere la massima enfasi Sulle fibre alte del dorsale Per esempio Abbiamo visto Che una latomachine In pugnatura stretta Come fa in questo caso qua Chris Bumstead Dove come si vede Se ha le fine A 120 gradi di flessione Della spalla E poi porta le braccia Allineate al corpo Essendo i gomiti chiusi Ed essendo un esercizio Sul piano sagittale Ed essendo il picco Di resistenza In contrazione Questo è un esercizio Per le fibre alte del dorsale Lo stessa cosa Abbiamo visto Quando andiamo a fare Le trazioni Se andiamo a fare Le trazioni In pugnatura stretta Andiamo a mettere Maggiore enfasi Sulle fibre alte del dorsale Se andiamo a fare Un altro esercizio Sul piano sagittale Come un pulle Con i gomiti stretti Andiamo a mettere Maggiore enfasi Siccome anche in questo caso Il picco di resistenza In contrazione Sulle fibre alte del dorsale Stessa cosa Se andiamo a fare Un rematore Ok Sulla panca Magari ottimo esercizio Che per esempio Faccio utilizzare Molto spesso Nei programmi Nelle varianti Per la casa Per chi magari Abbia solo dei manubri E una panca Un rematore Come si vede In questo caso qua Ecco anche in questo caso qua Siccome il picco di resistenza Quindi quando l'esercizio È più duro È nel momento di contrazione Finiamo per mettere Maggiore enfasi Su cosa Sulle fibre alte del dorsale Ecco Il pullover Al cavo Ha una cosa Molto interessante Che è Praticamente L'unico esercizio Che lavorando Sul piano sagittale Ha una caratteristica unica Se la andiamo a fare Attenzione però Quello che noi adesso Andremo a vedere Non vale per il pullover Con il manubrio Perché qua Ben che ci sia Tanto materiale scientifico Su cui ho anche già fatto Un video apposito Quindi per chi vuole Se lo può andare a recuperare La gente in palestra Non ha capito Una mazza Sul pullover Con il manubrio Il pullover Con il manubrio Siccome è molto duro Quando abbiamo le braccia stese Ok Fino a praticamente Quando abbiamo il manubrio Sopra la nostra faccia Quello è il rage Di movimento Per il petto In particolar modo Le fibre basse del petto E del tricipite Il dorsale Invece inizierebbe a lavorare Nel momento in cui Abbiamo superato la nostra faccia Verso il nostro pube Quindi se una persona Sta facendo il pullover Con il manubrio Per la schiena E magari Attenzione Te l'hanno messo Nella schedina sfigata Ecco Ho già compreso Che quella persona lì Di allenamento Non ci ha capito una mazza È grosso Per carità Magari ha due grammi Di steroidi A settimana in corpo Magari no Magari si è martellato D'allenamento Non ottimale Per anni e anni e anni E ha ottenuto risultati Tu ecco Magari se lo tieni prima Ti fa più piacere E in realtà E in realtà Anche andando ad aggiungere Un elastico Come si vede in questo caso qua Praticamente il discorso Non cambia molto Perché avrai maggior resistenza In contrazione E comunque Si un pelino in più Di dorsale Ce l'avrai anche Ma sarà comunque Sempre un esercizio Focus Petto e tricipite E attenzione Lo so Anche qualora Tu dovessi sentire Una bella sensazione Di stretch Se il muscolo Non è in grado Di produrre a massima forza E il petto a produrlo E sarà il petto a lavorare Quindi non è che sia Zero dorsale È semplicemente Che non è un esercizio Per il dorsale È lo stesso discorso Adesso così Almeno lo capisci Che se io vado a fare Una lat machine Come si vede in questo caso qua Con l'impugnatura stretta Io vado a salire tanto Quindi proprio al massimo Dove io posso andare a salire Quello è un esercizio Di nuovo per il petto E per i tricipiti Ma tu Lo utilizzeresti Questo esercizio qua Per lavorare il petto e i tricipiti Probabilmente no Ecco È lo stesso discorso Per cui non vorresti utilizzare Il pullover con il manubrio Per lavorare la schiena Non è ottimale Puoi fare assolutamente di meglio Praticamente qualsiasi altra roba È meglio E ecco Il pullover al cavo Invece è completamente differente In quanto A differenza del pullover Con il manubrio Ci permette di avere resistenza Da praticamente La nostra faccia In giù Perché è al cavo Per l'appunto E per questo motivo Siccome noi abbiamo capito Che oltre a un certo punto Diventa petto Se io voglio andare ad utilizzare Questo esercizio Come giustamente è Per la schiena Quello che vado a fare Cos'è Mi vado a mettere Davanti a una stazione dei cavi Vado a mettere la carrucola E adesso ti spiego Come andarla a mettere Mi vado a mettere Leggermente piegato E vado ad eseguire Il mio esercizio Portando le braccia Fino ad essere allineata Al corpo Attenzione Devi utilizzare un qualcosa Che ti permetta Di arrivare Con le braccia Allineate al corpo Quindi non puoi andare A utilizzare una sbarretta piccolina Che ti va a ridurre il rom Perché la parte buona Del lavoro Per il dorsale Arriva proprio fino a quando Il braccio è allineato Al corpo Se tu non riesci A far arrivare Il braccio allineato Al corpo Ti sta perdendo Una parte del movimento Quindi seleziona un qualcosa Che ti permette Di andarlo a fare Ecco Qual è però Questa caratteristica unica Di questo esercizio qua E che questo esercizio Se noi lo andiamo ad impostare Nel modo corretto In base chiaramente All'obiettivo Ha una caratteristica unica Come dicevo Ovvero È un esercizio Sul piano sagittale Ma a differenza Di tutti gli altri esercizi Sul piano sagittale Noi lo possiamo andare A modificare Affinché A differenza di tutti gli altri Che ci permette Di mettere la massima enfasi Sulle fibre alte del dorsale Questo ci può permettere Di mettere la massima enfasi Sulle fibre basse del dorsale Quindi è una caratteristica unica Che idealmente Vogliamo andare a sfruttare E per fare ciò Noi vogliamo far sì Che il cavo Formi con l'avambraccio Un angolo a 90 gradi Nel momento Alto del movimento Perché le fibre alte del dorsale Riescono a produrre La massima forza Proprio in alto Non in basso Se noi finiremo Per avere il cavo Che forma Col nostro avambraccio Un angolo a 90 gradi Magari quando abbiamo Il braccio stesso qua Ok Questo finirà per essere Di nuovo un esercizio Focus Fibre alte del dorsale Se lo abbiamo Quando è all'altezza Della spalla qua Ecco che allora A quel punto Noi riusciamo Ad avere un esercizio Con una caratteristica unica Ovvero quello Di permetterci Di mettere Maggiore enfasi Sulle fibre basse Del dorsale Quindi in poche parole Vai a regolare La carrucola E vai a regolare La tua posizione Sul suolo E in questo modo qua Hai questa caratteristica unica E attenzione Non vuoi andare a salire Troppo Quindi il tuo obiettivo Questa è un'altra roba Che viene sbagliata In continuazione Tu non vuoi andare a pensare Di portare il braccio Praticamente fino a quando È allineato alle orecchie Quindi proprio al massimo Massimo Perché se hai capito Il discorso del pullover Con il manubrio In alto Non è dorsale Il dorsale Tendenzialmente Quando hai il braccio Allineato alla spalla Quindi questo punto qua E un pelo sopra Dopodiché Non è più dorsale Quindi in realtà Tu andando a portare Il braccio sopra Per carità Andrà a lavorare Un po' di più il petto Magari ti interessa Magari no Se però dici Edo La mia schiena è proprio carente Non capisco cosa stia sbagliando Ecco per esempio Una roba di questo tipo La sbaglio in continuazione E io ricordo Che per tutti i membri Di Ascienza Dura Voi avete la possibilità Di inviarmi i video Sfruttatela questa roba qua Perché vi risolve problemi In un minuto Muscoli Inizia ad allenare Nel modo corretto Magari invece qui Le persone pensano Di farlo nel modo corretto In realtà Non stanno massimizzando Perché vanno a coinvolgere Maggiormente il petto E poi magari finiscono Per cedere di petto Invece che di schiena E ora però qui C'è un altro discorso Da andare a fare Ovvero che Questo esercizio qua Soprattutto nel momento In cui diventi abbastanza forte O lo inizia a fare Con le altre ripetizioni Però come dicevamo prima Le altre ripetizioni Non sono ottimali Nel senso che Ci fanno accumulare Più fatica Più danno muscolare In più questo esercizio qua Se andiamo ad impostare Per le fibre basse del dorsale Siccome un esercizio In allungamento Ci procura Più danno muscolare Quindi può essere un problema Perché noi abbiamo visto Che andare ad allenare Un muscolo Più di una volta a settimana Se lo andiamo a fare Nel modo corretto Ci può portare più risultati Il problema è che La maggior parte delle persone Non lo fa nel modo corretto Ma se lo fa nel modo corretto Si può andare a fare Il problema è che Non dobbiamo abusare Per esempio di esercizi Che mettono maggiore enfasi In allungamento Questo è un esercizio Che mette maggiore enfasi In allungamento Lo possiamo fare Ma non ne vogliamo abusare Se però in più Ci vai anche a fare Le altre ripetizioni Il rischio è veramente Di andarti ad impappinare E di non ottenere più risultati O di non massimizzarli È alto Quindi idealmente Soprattutto considerando Che andando ad aumentare Tanto il carico L'esercizio diventerà più stabile Perché magari verrai trascinato E dovrai fare tanta fatica Per rimanere in posizione Due Perché magari altrimenti Dovresti utilizzare Le altre ripetizioni Per utilizzare un carico minore Quello che può andare a fare È ottenere la stessa identica cosa Andandolo a fare su una panca Quindi metti una panca Inclinata Davanti ad una stazione dei cavi Ti va ad assicurare Che più o meno Il picco di resistenza Anche in questo caso Fra l'avambraccio e il cavo Sia intorno ai 90 gradi E lo vai ad eseguire In questo modo qua È esattamente La stessa identica cosa È esattamente Un esercizio Che ti permette Di mettere maggiore enfasi Sulle fibre basse del dorsale Ma chiaramente È molto Molto più stabile Quindi Hai capito La versatilità E l'utilità Di questo esercizio Che è una caratteristica unica Adesso però Eseguilo nel modo giusto Con il giusto numero di ripetizioni Con la giusta stabilità E vedrai Che otterrai I massimi risultati Devo smettere di allenarti Con le schedine sfigate Ti hanno sempre dato in palestra O magari hai pure pagato Lascia perdere questa roba qua C'è il Black Friday Ti prendi qualsiasi Dei miei 40 programmi di allenamento A un prezzo ridicolo Programmi completi di tutto Serie Ripetizioni Tempo di recupero 350 video tutorial Con il programma Singolo Che ti rimane a vita Ma che idealmente Vuoi andare a seguire Per tre mesi È il mio supporto a vita Hai anche l'accesso In molti programmi Al gruppo Telegram Con tutti gli altri membri Oppure Ti prendi tutti e 40 I programmi di allenamento Di Ascienza Dura Ti dico io La sequenza migliore Per la tua situazione Dopo aver capito Ok di cosa hai bisogno E tutti i programmi Di allenamento futuri Che usciranno Tu li avrai inclusi gratuitamente Quindi meglio di così Veramente non si può La pagina te la lascio Di una descrizione Nei commenti O in alternativa Se ti vuoi creare Il programma di allenamento In autonomia C'è il pacchetto Ipertrofia senza stronzate Che anche questo C'è il Black Friday Te lo puoi prendere scontato E ti dà accesso A 22 lezioni Che in 100 minuti Totali Ti spiegano esattamente Come andare a selezionare I migliori esercizi Per la tua situazione In continuo aggiornamento Con un linguaggio Semplice Ma con delle informazioni Avanzatissime Ti costa veramente Meno di una pizza fuori E ne saprai più del 99.99% Dell'istruttore di sala In cui ti sei imbattuto Anche quello Giù in descrizione Nei commenti Per qualsiasi domanda Sui miei pacchetti Su come funzionasse Se potessi fare per te Scrivi a questi riferimenti qua Ti risponderà Alessandro Maddalena Tutte le domande del caso Scrivi sempre a loro Qualora volessi Un programma di allenamento Personalizzato Con me E ti daranno Tutte le informazioni Noi come sempre Ci vediamo Tutti i giorni all'una Sempre su questo canale Ciao a tutti Peace